Settimana calda per la politica italiana. Domenica 12 giugno nelle Marche andranno al voto 17 comuni su 225 per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale. Per 7 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'eventuale ballottaggio è previsto per il prossimo 26 giugno. Nessun capoluogo di provincia rinnoverà il primo cittadino. A Pesaro Orbino invece succederà in tre comuni, Tavoleto, Frontino e Terre Roveresche. Per quest'ultimo si tratta della seconda elezione amministrativa dopo quella del 2017 successiva alla fusione. A sfidarsi saranno il sindaco uscente Antonio Sebastianelli e Sauron Marcucci che è stato sindaco per dieci anni dell'ex comune di Barchi. Nella stessa giornata e sempre dalle 7 alle 23 anche il resto degli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia. 5 ai quesiti su cui i cittadini potranno pronunciarsi a partire dall'abolizione della legge Severino che oggi prevede l'incandidabilità e la cessazione dell'incarico di persone condannate in primo grado per alcuni tipi di reato. Poi la modifica delle misure cautelari per la quale secondo i promotori è necessario porre un limite alla facoltà di arrestare le persone prima della sentenza per il pericolo di reiterazione reatti gravi esclusi. E ancora la separazione delle funzioni dei magistrati che oggi nel corso della carriera possono passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero, i voti nei consigli giudiziari per far sì che l'operato del magistrato possa essere giudicato anche da professori universitari e avvocati. Ed infine il tema del CSM per l'eventuale cancellazione dell'obbligo di raccogliere firme per potersi candidare. Chi vota sì sceglie di abrogare la normativa vigente, chi vota no sceglie invece di mantenerla. Assessore Afano, ci sono alcune sezioni elettorali che hanno subito delle modifiche e quali sono? La situazione dei seggi è la stessa del 2020. Ci sono dei seggi che sono stati spostati temporaneamente e nello specifico sono i seggi 16, 15 e 21 che passano dal Nolfi al Torelli. E poi invece c'è uno spostamento definitivo del seggio 31 che passa dall'ex scuola di Via Caprera alla scuola primaria Raffaello Sanzio. Lo spostamento di questi seggi è stato già comunicato con un porta a porta da parte dell'ufficio a tutte le persone interessate. Chi è sottoposto a trattamento domiciliare o è in isolamento Covid e come può fare? Per le persone che sono in quarantena sarà necessario fare una richiesta di certificato di voto all'Asur, poi presentarla agli uffici elettorali che creeranno un seggio proprio a casa per permetterli di votare. Comunque per qualsiasi informazione è necessario rivolgersi direttamente anche telefonicamente agli uffici elettorali che in occasione del voto di domenica saranno aperti dalle 7 alle 23. Quindi sarà possibile anche proprio rinnovare il certificato, la tessera elettorale. Invece avete messo in campo delle azioni per facilitare le persone diversamente abili a raggiungere i seggi? Sì, ci sarà a disposizione un attista con un mezzo che su previa chiamata dalle 8 alle 23 andrà appunto ad accompagnare le persone che vanno a necessità di farlo. È necessario comunque chiamare al numero di telefono in sovrimpressione oppure che si può anche trovare sul nostro sito. È obbligatoria la mascherina perché c'è stata un po' di confusione? No, la mascherina chirurgica è fortemente consigliata ma non obbligatoria. Per qualsiasi informazione l'ufficio elettorale oltre al giorno delle votazioni rimarrà aperto al pubblico anche domani con orario continuato dalle 9 alle 18. L'esito del referendum sarà valido se alle urne si recherà il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Ora dunque l'incognita è capire se gli italiani domenica andranno a votare. Giada Coacci ha sentito per noi il parere della gente.